segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te un attimo però manheimer su gli ultimi sondaggi a livello nazionale chi sale chi scende ma dopo la discesa delle scorse settimane fratelli d'italia è un po risalita ma le variazioni sono sempre basse 0,2 0,3 si muove poco ecco qua vedete il dato dalla svg proiettato lunedì si muove tutto poco e a fronte di questo c'è una marea di decisi cioè quasi metà della popolazione dice io comincio a fare mente locale adesso su cosa votare non so cosa votare il che fa vedere un mercato elettorale da una parte tutto frenato perché sono variazioni irrisorie quelle che vediamo e dall'altra con una potenzialità di movimento enorme tutto dipenderà dalla campagna elettorale e dai temi affrontati allora andiamo in pubblicità